Per Cerminiano è un giorno di festa perché dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico riapre la scuola, elementare e media del paese. Sindaco, un evento atteso. Ora sì, oggi è una giornata importante per la nostra comunità, riapriamo un plesso scolastico chiuso da tanti anni ed è importante perché la riapertura della scuola è sempre un momento di grande gioia e felicità, un lampo di luce in questo momento così drammatico che abbiamo vissuto. Oggi la nostra comunità si riappropria un edificio scolastico che rappresenta poi la continuità di un lavoro fatto in questi mesi in maniera repentina e veloce per garantire l'apertura entro il 24. Oggi noi abbiamo una scuola sicuramente adeguata sismicamente quindi sicuramente una scuola più sicura, una scuola più accogliente e più bella dove i nostri ragazzi avranno sicuramente la capacità di poter svolgere la loro funzione, la loro crescita culturale, il loro mondo di condivisione. Soprattutto potranno vivere in serenità e tranquillità questa riapertura dell'anno scolastico. Che genere di lavori sono stati eseguiti e quanto tempo hanno impiegato? Allora questa è una ristrutturazione che si sta protraendo da lunghissimo tempo. Con il nostro avvento abbiamo naturalmente dato un input di accelerazione soprattutto perché volevamo far tornare a risplendere la nostra palestra comunale ferma dal 2009. Quindi ci siamo impegnati per evitare anche i nostri ragazzi che da tanti anni sono in sofferenza, da tanti anni sono costretti a emigrare in altri plessi. Oggi dal 2009, alla distanza di circa 11 anni, riapriamo anche la palestra comunale. E dunque dal 24 si rientra in queste aule. Quanti ragazzi frequenteranno questa scuola? Allora qui noi abbiamo, siamo intorno ai 100 alunni tra la scuola primaria e la scuola secondaria. Io naturalmente in questo momento vorrei fare gli auguri a tutti questi ragazzi che riprendono l'attività dopo un momento veramente difficile perché siamo convinti che la scuola debba essere fatta in presenza, che la scuola deve essere un momento di crescita e di condivisione. Noi oggi vogliamo garantire questo dando nuovi spazi, spazi ampi anche per garantire il rispetto della normativa Covid. Su questo abbiamo lavorato tanto e siamo sicuri di ripartire in sicurezza. Sembra il rispetto della normativa e speriamo che la scuola possa proseguire fino a giugno senza interruzioni.